pomeriggio uggioso gocce di pioggia gelata si appiccicano ai vetri scagliate da un vento freddo e arrabbiato i due gattini le osservano incuriositi provano in vano ad acchiapparle e poi delusi cercano conforto in un giaciglio caldo e morbido lo trovano ai bordi della coperta che scalda la bimba assorta nella lettura di racconti fantastici qui c'è il tepore e la tranquillità necessaria iniziano allora il rituale delle fusa ritmica ovattata melodia invita alla quiete e alla serenità osservo quelle creature morbide ed enigmatiche che conservano una natura primordiale reluttanti ad essere addomesticate eppure così inclini a godere delle comodità domestiche e solo quando acconsentono dell'affetto umano e poi acconsentono dell'affetto umano grazie a tutti grazie a tutti